Amici carissimi a tutti, un santo anno, un nuovo e santo anno. Oggi c'è qualcuno che gioisce per un nuovo anno, qualche altro invece dice che l'inizio di un nuovo anno è sempre un motivo di preoccupazione in più, perché non sappiamo che cosa ci riserva il futuro, come se io poi a marzo sapessi già quello che mi può accadere a maggio piuttosto che in aprile, oppure molti sentono il peso dell'età. In cultura come quella di oggi della bellezza fisica come idolo è un anno nuovo, è un anno aggiunto. E in questi altri scorci, prima della chiusura del tempo di Natale, voglio proporvi qualche riflessione di un grande, grande in ogni senso, di un grande testimone di Cristo, del Vangelo, di un grande Papa, ma anche di un grande devoto di Padre Pio, Paolo VI, canonizzato nello scorso anno. Vedete che cosa scriveva? Ai familiari il 31 dicembre del 1929, mentre l'anno volgeva alla fine. Difatti lui scrive anche l'ora in cui scrive queste parole ai suoi familiari. Ora è 23.45. Ecco che finisco l'anno con voi, scriveva all'epoca Montini, Don Montini, che mi avete insegnato quella difficilissima cosa che è l'ottimismo su tutto quando può avere a Dio riferimento buono, su questa nostra vita che passa quindi, e a fin d'anno dovrebbe piangere perché è invecchiata, piuttosto che cantare di allegrezza, cosa che si può fare solo quando si conosca il bene totale del mondo, il bene del tempo, il bene della morte, il bene di Dio, cioè a noi garantito. Invecchiamo negli anni, l'ingiovanendo nello spirito finché il corpo cede e lo spirito dovrebbe iniziare la sua libera esistenza guadagnata nella conquista della libertà quando era nella carne. Vedere l'inizio di un nuovo anno come l'opportunità di riscoprire il bene, di riscoprire un bene, un bene nuovo, semmai un bene che già ci è passato davanti e che noi non abbiamo riconosciuto nel nuovo anno. Questo può essere l'augurio più bello, l'augurio che Paolo VI all'epoca faceva ai suoi familiari, ma nel 1929 non ancora era papa, ma che poi ha ripreso questi concetti nelle sue omelie, per esempio per il primo gennaio, che è la solennità della Madonna. E qual è il bene nuovo, ma sempre antico, come dice Agostino, se non la presenza materna di Maria? Ecco, io vi auguro un anno veramente pieno di questa riscoperta della presenza di Maria. il nuovo bene, il bene nuovo e sempre antico che Dio ha fatto e fa a ciascuno di noi. Auguro a tutti veramente un santo anno in compagnia di Maria. Ci vediamo domani per il Pio TV Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!